Perché la Regione Basilicata non risponde rispetto al giudizio di compatibilità ambientale relativo al parco eolico che interessa i comuni di Tolve, Oppido Lucano, Irsina e Genzano di Lucania? È il quesito che pone il capogruppo di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia Gianni Rosa, dopo aver atteso in vano per tre mesi una risposta dal Presidente Pittella ad una sua interrogazione. Lo strumento dell'attività ispettiva, sottolinea Rosa, che solleva quei siti importanti, richiede una discussione in consiglio, spesso denunce e regolarità. E soprattutto è legato ad una tempistica precisa, fuori dalla quale perde di significato e contestualizzazione. In particolar modo, le questioni legate alle autorizzazioni ambientali richiedono una trattazione immediata per assicurare la regolarità delle procedure. Invece si tira dritto, ignorando richieste, denunce, diritti dei consiglieri ad essere informati. Salvo poi ritrovarsi in circostanze emergenziali e ai limiti della legalità. La storia, che osa il consigliere, continua a non insegnare nulla.